Ciao raga, allora prendete i popcorn perché sto per fare una delle mie Instagram story in sequenza barra spiegone sul rap di cui a molti non frega un cazzo, quindi parlerò di rap, se la cosa non mi interessa tagliate qua e se invece volete sentire quello che ho da dire, scusate intanto c'ho l'ananerottolo che mi giro un giorno in giardino, state sintonizzati perché devo approfondire quello che ho già detto ieri e su cui ironizzavo anche oggi, ovvero dicevo nel 2020 non è più valida la scusa del non ho i mezzi per emergere ma me lo merito, tipo sono talentuoso però sto in un paese dove non c'è movimento, non ho i soldi, non ho le conoscenze eccetera eccetera eccetera, premetto che secondo me la scusa del non ho i mezzi non valeva neanche una volta, io ho sempre creduto nel talento, io ho sempre pensato che chi ha qualcosa in più degli altri in un modo o nell'altro riesce a farsi notare, premesso questo, dopo aver letto le opinioni di tanti che secondo me si sono sentiti chiamati in causa e hanno commentato non magari direttamente a me però sotto i blog che hanno ripreso questa mia uscita, mi viene naturale fare un confronto, ecco aperto a tutti e la prima cosa che mi viene naturale pensare è che secondo me i ragazzi di oggi non hanno la minima idea di cosa significhi non avere i mezzi e avere delle difficoltà nel fare musica rispetto ad oggi, che secondo me invece è una cazzata, non inteso che una stupidata, nel senso che è appunto molto più semplice e voglio spiegarvi anche perché, perché ci tengo che sia chiaro a tutti e che il mio messaggio non sia un'uscita arrogante come dire, oh se non ce la fate siete scarsi e fate schifo, io sono più bravo di voi, non è assolutamente questo però vorrei raccontarvi un attimino com'era un tempo, la mia storia è quella di tanti. Partiamo dal presupposto che ad oggi il rap, la trap, insomma quel cazzo che volete per me poi alla fine è sempre lo stesso mondo, è un genere sdoganato, anzi è il genere di questo decennio, tutti ascoltano questo, ha influenzato tutta la musica e di conseguenza anche tramite i social, che sono stata un'altra grande invenzione se vogliamo sotto questo punto di vista, vi offrono una finestra sul mondo incredibile, cioè ad oggi ci sono, a parte che esce il disco di un rapper, è su Spotify un minuto dopo quindi voi avete a portata di mano tutta la musica del mondo oltre che quella italiana, ma poi appunto ci sono interviste i rapper, i profili Instagram, cioè è facile come dire essere indirettamente a contatto con loro, vedere che cosa fanno, da dove prendono spunto, sentirvi parlare e mudarli anche perché ci sono addirittura dei blog che riprendono gli outfit dei rapper, quindi anche questo che è un aspetto se vogliamo che fa parte di quell'immaginario, è molto semplificato e vi racconto come era una volta, per esempio mi sono affacciato a questo genere, vi giuro che oltre al fatto che non sapevo che faccia avessero i rapper che ascoltavo, perché nessuno se li cagava in Italia, non c'erano grandi canali attraverso il quale informarsi e anche la musica era difficile da reperire raga, cioè a Milano c'era, che mi ricordi io, un negozio che era Vibra Records che vendeva i dischi di rap italiano, se li volevi comprare originali, altrimenti ti attaccavi, non è che andavi in Mondadori, avevi ricordi e trovavi i dischi, perché non li voleva nessuno, nessuno conosceva questo genere e te la dovevi scaricare illegalmente, eventualmente, ma non era comunque come oggi che avete Spotify come dicevo prima, che esce il mio disco e a mezzanotte, un secondo potete ascoltarvelo tutto, cioè una volta non era assolutamente così. E poi anche proprio la musica, le manifestazioni, non è che c'erano i live, i DJ set, i tour, niente di tutto. Capitava raramente, soprattutto parlo per me che abito, al contrario di quello che molti pensano, fuori Milano, sto dopo il casello io, dovevo prendere tre mezzi, ci mettevo un'ora per arrivare a Milano, non c'erano concerti, capitava che raramente dicevo c'era, venivi a sapere tramite passaparola, perché ragazzi non c'erano i social, ripeto, o vedevi qualche flyer, che c'era il tal rapper che ti ascoltavi che veniva a fare un concerto, boh, al centro sociale, che ne so, le a un cavallo, piuttosto che c'era il boccaccio a Monza, o qualche volta già ai tempi c'era qualcuno che frequentava i locali, ma era visto un po' come un tabù, i rapper erano più nei centri sociali, o alle jam. Tanti di voi, scommetto che, quando dico tanti di voi, parlo a quelli più piccoli, non sanno nemmeno che cosa siano le jam. Le jam, ragazzi, erano eventi organizzati da gente semplicemente appassionata di pop, si svolgevano all'aperto, ed era tutto molto spartano, cioè c'era uno che si metteva su un tavolo con i piatti a fare il DJ. Se ti andava bene ed eri fortunato c'era un microfono di quelli pacco con i fili, attaccato ad una cassa che suonava malissimo per fare del freestyle. Ammesso che il DJ avesse i beat e ammesso che te lo facessero fare, perché c'era anche un nonnismo pazzesco, al contrario di oggi che secondo me c'è molta più aggregazione, anche con quelli più giovani, diciamo che sono tutti un po' meno gelosi di questa roba. I writer che facevano i graffiti sui muri, qualcuno che metteva i cartoni a terra e si metteva a fare breakdance, questo era il modo in cui potevi ascoltare il rap in Italia fino a qualche... Quanto riguarda per esempio le interviste, c'erano due o tre magazine che non erano famosi, erano fanzine, cose di nicchia, io per esempio dovevo andare dal cartolaio e faceva arrivare la copia soltanto per me ogni mese e attraverso quello leggevi qualche intervista, ma era tutto un mondo molto, veramente underground, molto di nicchia, cioè non c'entravi così per caso, ti dovevi proprio appassionare e andarti a cercare i canali. E quindi tornando al principio di tutto questo discorso, ovvero l'emergere, cioè se ti veniva in mente di volere far musica, cioè la prima cosa che pensavi era da dove cazzo inizio, cioè che cosa faccio, perché non è come oggi che è pieno di amici, con il microfono in casa che producono o anche studi di registrazione che comunque sono abbastanza accessibili, diciamo, cioè una volta se volevi fare musica non era semplice ragazzi ed è il motivo per cui per esempio io e tanti altri facevamo freestyle, perché era l'unica cosa che non richiedeva soldi, io per esempio per chi non lo sapesse ero veramente un poveraccio quindi non poteva assolutamente permettermi uno studio di registrazione, non c'era neanche la cultura di comprare le basi, pagare le ore di studio, cioè non c'era niente di tutto ciò, dovevi avere la fortuna tramite qualche canale di conoscere il ragazzo giusto che era il nerd che aveva i piatti, il microfono, il computer per farti registrare a casa e già questo non era semplice. quindi per rispondere diciamo punto per punto, pian piano lo farò, ho letto uno che diceva, sì vabbè ma i type beat, cioè quelli belli sono a pagamento, a parte che non è vero ragazzi, perché io stesso tutt'oggi a volte semplicemente per scrivere delle strofe magari vado su youtube, trovo un type beat che mi piace, ci scrivo sopra, spacca e tante volte il beat che mi rifanno è anche più brutto del type beat che era messo così e inoltre vi dico ragazzi, per fare musica inizialmente diciamo a livello amatoriale non è che dovete subito registrarvi in sia e stampare i dischi, che quindi vi serve che il beat sia libero e registrato a nome vostro, cioè potete fare la roba, metterla su internet su youtube e nessuno vi viene a bussare a casa con la divisa, nessuno vi arresta e così vi fate conoscere. io questo non lo potevo fare, perché non c'erano i type beat, dovevo trovare il ragazzo giusto di cui parlavo prima, che nel 99,9% di casi era scarso, perché il livello era basso, faceva dei beat brutti, quelli c'erano e non è finita ragazzi, perché vi ho appena detto prendete un type beat e mettetelo su youtube, io potevo farlo questo, no, sapete perché? Perché youtube non c'era, so che vi sembrerà assurdo, perché probabilmente voi ci siete cresciuti con youtube, ma quando io iniziò a fare rap youtube non esisteva, proprio non è che non c'era rap su youtube, non c'era youtube come piattaforma, non l'avevano ancora inventato, c'era un'altra piattaforma molto più spartana che si chiamava MySpace ed era una pagina su cui potevi caricare, adesso mi pare 4 brani, 4-5 brani su un player, però anche una volta che lo facevi, come li facevi ascoltare, come ti facevi notare? Non è che c'erano i social che condividevi, la gente ricondivideva a sua volta e quindi questo eventuale pezzo girava, cioè non c'era niente di tutto ciò, cioè dovevi convincere tu la gente fisicamente quando ci parlavi o al limite c'era Facebook forse, ad andarsi ad ascoltare le tue robe su MySpace, non potevi neanche condividere le robe, non c'era proprio questo meccanismo di condivisione da social. E quindi, per farci conoscere, io e tutti i miei amici rapper di quel tempo, che cosa dovevamo fare? Eh ragazzi, dovevamo informarci se c'era una jam che molto spesso non era neanche nella nostra provincia, a me è capitato per esempio di andare a Roma a fare freestyle, testimoni che ne so, Madman e Jimmy Tights o viceversa loro quando venivano a Milano, usare il freestyle che appunto era, come vi dicevo prima, l'unico mezzo di diffusione che avevamo per farci conoscere e sperare, oltre che di vincere, che su 50 stronzi che erano nel locale, perché non credete che c'erano i pienoni come ad oggi ai concerti, boh, 20, incuriositi dal mio carisma, il giorno dopo andassero a cercarsi la mia pagina MySpace e se andassero ad ascoltare quello che facevo anche sulle tracce. Quindi insomma, direi che oggi siete fortunati rispetto a noi o no? E in tutto ciò dovete ricordarvi e continuare a considerare che era un genere di super nicchia a questo. Nel mio paese, a Vimercate, rappavamo in due e lo ascoltavamo in tre o quattro. Cioè per voi oggi è facile, no? Andate a scuola, parlate tutti di quella roba. Io quando parlavo di rap ai miei amici mi prendevano per il culo, perché era un genere, come dicevo prima, sconosciuto, completamente inesistente e spesso anche un po' preso in giro, perché i rapper di un tempo si vestivano con quei pantaloni larghi, con le bandane in testa. Cioè era un po' pittoresco, ecco. Tornando alle cose che ho letto, un altro ragazzo diceva sì, però ad oggi è molto più difficile emergere, perché il mercato è vastissimo, c'è molta più offerta. Allora, devo essere sincero, questa è una mezza verità, cioè non è una cazzata, perché comunque se parliamo di statistiche, di numeri, se una volta dovevi farti conoscere in mezzo a mille, ad oggi devi farti notare in mezzo a centomila. Però ragazzi, cioè vi garantisco che, dicevo, vi garantisco che una volta per farsi notare non è che ti mettevi i vestiti più belli di un altro, la collana con più pietre, o dicevi più cazzate al microfono, cioè ti dovevi proprio impegnare, dovevi farti notare per quello che scrivevi, per come rappavi, per come stavi sul palco. Andatevi ad ascoltare il rap di una volta. Penso che siate tutti d'accordo sul fatto che quantomeno a livello di scrittura, lasciate stare l'immaginario, il sound, parlo proprio del rapper che si mette giù a scrivere le rime, era molto più alto. Cioè, mi viene da dire che ad oggi, in mezzo a tutto lo schifo che viene fuori, è più facile se vogliamo farsi notare dal momento in cui fai una roba valida. Dal momento in cui chiudi le rime e lo fai anche bene, spicchi, perché ad oggi tanti non fanno nemmeno questo. A fatica vanno a tempo. E quindi, insomma, paradossalmente, forse era più difficile uscire una volta rispetto ad oggi, con della musica di qualità. Poi tanti hanno frainteso. Quando io dico non vi servono i mezzi, non sto dicendo che non ci siano... Dicevo, non vi sto dicendo che non ci siano degli sgorbi ambulanti che sono per qualche modo assurdo usciti comunque. Ma per me quello non è farsi notare grazie al talento. Qual è una botta di culo? E al 100% di casi ha una durata limitata. Cioè, c'è una data di scadenza su quegli artisti. Non è che costruiscono una carriera e campano in musica. Durano un anno, due nel migliore dei casi e poi spariscono. Quindi il mio discorso era indirizzato a quelli che veramente credono nella musica e nel poter fare della musica di spessore. Con un messaggio, se vogliamo, che non deve per forza di cose essere impegnato. Però, quantomeno, un messaggio scritto bene. Per quanto riguarda le collaborazioni, invece, ad oggi addirittura ci sono degli artisti che vendono le strofe. Che se sei un figlio di papà ti fai dare il grano dal tuo vecchio e ci compri una strofa. O comunque, nel migliore dei casi, se sei meritevole, come dicevo ieri, qualcuno ti nota, ti chiama. Io stesso l'ho fatto con tanti ragazzi. Li sento perché mi appaiono in home su Instagram, magari vengo colpito da qualcosa e li contato. Semplicemente emergono per cazzi loro, però poi sento la loro musica, mi piace. Quindi, insomma, ci si sente, ci si scrive, ci si becca. Oggi è tutto facile, ripeto, con i social, con questo movimento iper sdoganato. Ma una volta manco per il cazzo, raga. Cioè, una volta per me era un'utopia pensare di collaborare con quelli che ascoltavo. Dove li beccavi? Cioè, dove stavano questi? Dove uscivano? Non c'erano posti di aggregazione fissi in cui giravano? Cioè, nonostante non fossero delle star, comunque era gente che... E non è che bazzicava gli stessi posti che bazzicavamo noi. E quindi devi essere proprio determinato. Ovvero farti tutte le serate, sperando che prima o poi venissi in qualche modo notato da uno di questi esponenti che magari, per uno strano caso, in cui i pianeti si allineavano una volta nei dieci anni, questo magari era andato alla serata di freestyle vicino a casa sua, a sentire un po' come reppavano quelli nuovi. E allora magari veniva impressionato. E allora attaccavi bottone. Oppure dovevi semplicemente frequentare tutte le serate. Cioè, non uno ogni tanto, dovevi farti vedere. Perché dopo venti volte che vedi la stessa faccia, è chiaro che magari cominci ad attaccare bottone, a stringere un po' di confidenza. E allora da cosa nasceva cosa, e se ti dimostravi, oltre che bravo, anche una persona umile e con la testa sulle spalle, ti offrivano la loro fiducia, che poi si traduceva in una loro collaborazione, che sia un bit o una strofa. Dunque ragazzi, premesso tutto questo, non mi dilungo perché ho visto che ho già fatto 800.000 storie e sto già asciugando parecchio. E voglio chiudere con l'ultimo punto, che secondo me è il più importante, quello che proprio mi preme. La domanda che vi sorge la spontanea di riconoscenza, un po' di gloria tra i partiti del genere, stotto. Cioè, oggi questa roba del rap è diventata un sogno americano, no? Ci sono ragazzi che veramente beccano il singolo, vengono firmati da una major, firmano un contratto dove prendono comunque diverse migliaia di euro e magari... Sì, ok, ma una volta che riuscivate nel vostro intento e quindi sfondavate nel mondo dell'underground, che cosa ottenevate? Questo. Un cazzo di niente, ragazzi. Un po' si illudono di cambiare vita. Qualcuno ce la fa anche, altri purtroppo no. Anzi, per fortuna, perché se non ce la fanno, fanno schifo. E una volta a zero. Ma voi avete idea, io prima di vedere due soldi, grazie a questa roba di quanto tempo è passato? Cioè, vi basti pensare... Dicevo, vi basti pensare che quando ero già fuori con parole di ghiaccio, giuro, storia vera, mi tagliarono la luce a casa. Cioè, l'Enel mi taglia la luce perché non avevo neanche pagato la bolletta, perché ancora i soldi di tutto quello che avevo seminato, che stavo seminando, non erano arrivati. Cioè, ero ancora povero, comunque. E quindi, capite, che arrivando da... da tutta questa odissea, quando leggo Io non ho i mezzi, è ovvio che mi prudono le mani. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Dai, veramente. Cioè, quando vi lamentate perché i beat non sono belli, perché la qualità non è giusta, perché la gente non vi nota, raga, è solo colpa vostra. Cioè, mi spiace dirvelo così. La realtà a volte è un duro muro su cui vi abbattete e vi fate del male. Però, il primo passo per migliorarsi è prendere coscienza di questo e dirò, ok, forse sto sbagliando qualcosa, forse devo esercitarmi di più, forse devo... non lo so che cazzo dovete fare, però di certo la colpa non è degli altri, ragazzi. Questo deve essere un messaggio positivo, non arrogante o presuntuoso, come diceva all'inizio. Se ci sono riuscito io, ma parlo veramente a nome di tanti, ma se ce l'ho fatta io, che abito rispetto comunque al centro in culo dei lupi, che non avevo un euro in tasca, che non avevo comunque mezzi, conoscenze, non avevo le basi, non avevo il microfono, non avevo niente, ragazzi, soltanto la voglia. Chiunque ce la può fare, potenzialmente parlando. Quindi prendete atto di questo, lamentatevi di meno, siate più umili e buona fortuna.